Prende forma Princess Elizabeth, la prima isola energetica del mondo. Si tratta di una gigantesca base industriale offshore con sistemi di alimentazione ad alta tensione, costruita nella parte belga del mare del nord. L'isola fungerà da hub per collegare l'energia dei vicini impianti eolici con i sistemi energetici nazionali. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.